di potter ho visto qualcuno soffarente con la scoppa in mezzo alle gambe attenzione perchè questo qui è la chiusura giusto? esatto ecco la cosa strana è che subito dopo la magia verde riesco a vedere il drago ragazzi dopo la magia verde vi assicuro che vedrete i draghi questo qui è il costume più bello di tutti no quello non è un costume è il pilota del carro quello lì bravi bravi allora siamo arrivati adesso all'ultima compagnia che sfiderà la vedremo tra poco questa era la brivido con uccellini e uccellacci è l'ultimo ma vi do qualche anticipazione come vi dicevo prima quest'anno si sono utilizzati moltissimi materiali di riciclo un po' per risparmiare un po' anche perchè è necessario non buttare via niente per la crisi anche per la crisi ma anche perchè ci sono in realtà molti materiali che si prestano poi ad un utilizzo diverso una volta concluso quello per cui erano stati destinati originariamente tipo 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 questa è una bella domanda questi molti degli uccelli che vedremo tra poco e non è male una volta no li hanno incisi opposta le piume sono state realizzate con le confezioni delle uova di Pasqua fantastico tagliate a tante striscioline quindi le hanno con le uova di plastica con le uova di Pasqua di Pasqua fantastico guarda puoi vedere anche tutte le piume e cangianti sono state poi applicate sul eh... non me l'aspettate non me l'aspettate non me l'aspettate è stata una sorpresa esatto ti vedo particolarmente col video no e il becco è fatto con delle bucce di banana non è vero ah no? è fatto di cartongesso di cartongesso sì di cartongesso allora vi diamo qualche indicazione anche sulla Brigado che è una delle più vecchie compagnie infatti già nel 1938 i futuri fondatori di questa compagnia si erano incontrati